Jimmy Edelix non è il solo ad averci lasciato qualcuno di più contemporaneo diciamo ce n'è uno che un altro ha compiuto un anno è poco questo pezzo è il nostro personale rifacimento di B-Dex di Mike Cooch X grazie grazie tante forse che questa la conoscete grazie 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 a tutti 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 Per agitarvi un pochino di più Adesso Vi facciamo andare un po' contro la legge O meglio Potreste sempre dire che è colpa nostra Grazie a tutti 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 Qua andiamo un pochino più sull'agitato Vi ringrazio lo stesso Judas Priest Black and low Stiamo avvicinando la fine Sono tutti abbastanza sconvolta Sicuramente conoscete e apprezzerete Caso contrario Caso contrario Caso contrario non capisco cosa ci facciate qua Grazie a tutti